Entrano nel vivo i festeggiamenti per il Ferragosto Avelinese. Ieri la tradizionale processione dell'Assunta, centinaia di fedeli hanno seguito il percorso cittadino della Madonna con in testa il Vescovo Marino e il Sindaco Foti. E non ha tardato ad arrivare il posto polemico dell'ex presidente del Teatro Gesualdo Luca Cipriano, che parla di un rito insopportabile a proposito della presenza dei politici alle processioni religiose. Intanto, mentre sul corso Vittorio Emanuele si prepara il palco per il concertone di stasera di Alex Britti, ci si interroga su quello che è stato un Ferragosto in tono minore. Fra un po' due o tre anni, nemmeno più la processione, manca più la processione farà. Ma proprio niente. Proprio zero. Zero, zero, zero. Ricordando i vecchi anni, adesso è zero, insomma. L'illuminare del Ferragosto, sì sì, era tutto il corso prima, ma adesso non più, già da parecchi anni. Ogni giorno c'era qualcosa, c'erano le bancarelle, uno poteva, invece adesso niente, l'ho tolto tutto. L'assessore alla cultura Teresa Mele difende il suo operato anche se ammette qualche mancanza. Facendo un bilancio, credo che l'errore dell'amministrazione, e quindi diciamo mi faccio mea culpa, è quello forse di non aver fatto sì che ci fosse una maggiore informazione per consentire a tutti quanti i cittadini di sapere quali sono, quali erano tutte quante le attività promosse sul territorio, perché devo essere sincera, ci sono stati eventi quasi tutti quanti i giorni. E sui fuochi pirotecnici che quest'anno non ci sono stati, precisa, è stata una mia scelta, inquinano troppo. Un Ferragosto che dovrà insegnare per il futuro anche con riferimento alla vicenda Calcutta. Il cantautore, portato in Irpinia dall'Associazione Elementi, è costretto a traslocare da Avelino a Monteforte per i tempi troppo lunghi della Commissione Pubblici Spettacoli. Al massimo possiamo cercare, insomma in sinergia con chi organizza, di far sì che possono essere un tantino più veloci.